Ciao amici! Come state? Sono tornato! Oggi apriremo insieme le uova dei supereroi! Un uovo è già stato aperto e dopo ve lo farò vedere. E poi aprirò questi supereroi. Andiamo a scoprire cosa troviamo. Come vi stavo dicendo, ho già aperto questo uovo di bambino. L'ho aperto, guardami guarda la sorpresa! Cosa ci sarà? Provate a indovinarlo! Se anche a voi vi piacciono i supereroi lasciate un like! Apriamelo! Cosa ci sarà? 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 Quanti cosa ci sarà? Cosa ci sarà? guardate il risultato finale e ora passiamo al secondo uovo l'uovo kinder dei supereroi e questo cioccoletto lo mangiamo insieme mmm buono abbiamo trovato un matt man da costruire non mi aiuti infatti bravo Ivan vi aspetto di un nuovo video non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale youtube Ivan Kid Stories a presto ciao amici